Let's go Butchers, benvenuti a un altro episodio di Versus, in questo caso metteremo a confronto non due armi, non due specialisti, ma in questo caso metteremo a confronto, bene, due specialità, due perk, come avete visto dal titolo, prestigiatore e spericolato. Questi due perk sembrano simili comunque, prestigiatore dice che ci fa mirare più velocemente dopo la corsa e invece spericolato ci dice che possiamo tirare granate, possiamo comunque utilizzare oggetti e fare un sacco di cose oltre che ricaricare in corsa, possiamo anche sparare in hipfire con l'arma, ma la verità è qual è il migliore tra questi due perk? Cosa succede quando si usano tutte e due assieme? Cosa succede quando si utilizza uno di questi due con un determinato tipo di arma? Ed è quello che andremo a vedere in questo episodio di Versus. Comunque prima di iniziare con l'episodio voglio chiedervi qui sotto cos'altro volete vedere in questa serie, se volete vedere per esempio Locus vs SVG, KN vs HVK e così via, fatemi sapere quello che vi piace, quello che vorreste vedere e io vedrò poi in futuro di trattarlo. Comunque ora andiamo subito all'interno del video. Allora bene spieghiamo per prima cosa cosa fa una specialità e cosa fa l'altra, prendiamo subito Prestigiatore, Prestigiatore ci consente di scambiare le armi più velocemente ma allo stesso modo anche di mirare più velocemente dopo la corsa, ma quant'è questo tempo di mirare più velocemente dopo la corsa? Bene del 50% vuol dire che dimezzerete la metà del tempo, ci metterete per mirare con un'arma, se un'arma ci mette che ne so 300 millisecondi per mirare, in quel caso ci ne metterete 150 e questa cosa varia in base comunque all'arma che state utilizzando, se è un SMG, se è un fucile d'assalto, se è un cecchino, se è un mitragliatrice leggera e così via. Mentre invece per spericolato cosa fa? Oltre che poter tirare ovviamente granate, flashbang, utilizzare comunque le granate tattiche o le letali, ricaricare in corsa e tante altre cose, potrete anche sparare in hipfire. Ma il meglio questi due perk lo daranno se utilizzati assieme, praticamente immaginate che si crei una sorta di paradosso, praticamente avrete un perk che vi fa sparare quando siete in corsa e poi avrete un altro perk che vi fa sparare più velocemente, quindi aumenterà la velocità in cui uscite dalla corsa del 50%, immaginate si va a creare una sorta di paradosso perché voi siete anche in grado comunque di sparare anche senza mirare. Ebbene, cosa succede qui? Praticamente sarete in grado di sparare quasi istantaneamente durante la corsa se utilizzerete sia spericolato sia prestigiatore assieme sulla stessa classe, quindi vi consiglio di provarlo perché ragazzi è incredibile utilizzare questi due perk assieme, si vede un cambiamento assurdo e sparerete quasi istantaneamente, specialmente se giocate con un SMG o col pompa, questo vi può essere di un'utilità incredibile e potrete sfruttare i vostri riflessi per avere un vantaggio assurdo sugli avversari, perfino quando loro premeranno il grilletto prima di voi perché magari hanno prestigiatore, voi se avrete sia spericolato che prestigiatore potrete sparare prima di loro perché praticamente va ad annullare il tempo che c'è tra quando vi fermate di correre e quando inizia il primo colpa ad uscire dall'arma. Io vi consiglio di provarlo, vi ho portato qua tutti i dati, ho fatto un sacco di test su questa cosa, ho visto un sacco di video per cercare di capire come funzionava e portarvi il meglio, quindi vorrei che oggi provaste questa cosa e veniste qui sotto a dirmi se effettivamente come dico io funziona e spero vi possa aiutare comunque a migliorare il vostro stile di gioco. Let's go bitches!